Nonna! Nonna! Nonna, mi racconti una storia! Nonna, quanti anni hai? 850.000? Allora, allora, cos'è? Ma... Ma via, 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 l'età di 9 anni, eh! Ah, vecchia, vecchia! Tieni qua, che la volta ora ti tira una ciabattata in fronte che te la ricordi per tutta la vita! Feri, stavo scherzando, Feri, aspetta! Feri, dai! No, che poi rompiamo il punteggio! Feri, Feri, smettila, che poi rompiamo il punteggio, per favore! Vieni qua, ti insegno io, vieni qua! Feri, allora, se corri così veloce poi ti fai male alla schiena, dai che sei vecchia! Ancora? Eh, certo, è sempre vecchia, sei, non è che ringiovanissima! Stavo saltellare che ti rompi le caviglie! Vabbè, basta saltellare! Feri, basta! Allora, siamo oggi nei Lucky Block dei cattivi, in particolare di Cartoon Cat, che è uno dei cattivi più cattivi del mondo! La faccia è là, gigante! Bravo, bravo, quella lì, poi ci sono i suoi tentati... No, quello non è Cartoon Cat! C'è il coltello di Jeff the Killer, i Lucky Block hanno la faccia di Cartoon Cat, molto cattivi, molto brutti, gli alberi insanguinati perché hanno visto Alex troppo da vicino, è normale, e per oggi direi che abbiamo offeso abbastanza! Quindi possiamo iniziare, Anna, sei pronta? Sono prontissima! Andiamo, Feri! Andiamo! Dobbiamo andare nel nostro nido sicuro! E voi, mamma mia, vi uccidiamo! Ve ne andate voi! Sì, sì, ce ne andiamo noi! Ciao, 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 ciao! Allora, oggi da te mi aspetto grandi cose, ok? Sì, grandi cose! Adesso apriremo Lucky Block e troveremo Diamanti, Smeraldi, Oro, Perro e nessun Morbo! Lo sai perché secondo me oggi tu farai faville e sarai eccellente in questa sfida? Sì, dimmi! Perché questa è la sfida dei mostri, no? E tu sei un mostro! Cioè, tu da vicino, io te lo dico sempre... No, perché non è vero! Sei proprio brutto! Cioè, ma Popo che guarda si fa fatica a vedere... Mi faccio paura? Guarda, guarda, eh! Ah! Mamma mia! Oioi! Vai giù nel vuoto! Non mi spingere, sai? Mamma mia che basta già solo... Dai, non si fa così però! Io sono un tuo amico! Mamma mia! Non ero preparato! Non ero preparato! Basta! Apriamo, se ne perdiamo troppo tempo! Mi metto qua, per sicurezza! Dai, qui... Mamma mia! Mamma mia! Oh! Stavo cadendo! Che paura! Cadevi, eh! Questo è un classico tipo di jump scare, capito? Voi devi fare il jump scare, perché vedi Alex scare! Se vi fa paura Alex, scrivete nei commenti una bella faccia spaventata! Io inizio, eh, amico mio! Guarda che bello! Quello non hai trovato niente! È una cana da pesca! Questa è buona, perché... Vedi? Possiamo usarla! Ti attiri vicino a te, quindi fai jump scare! Oh! Diamanti e meredoro! Buono! Buono! Prendi, 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 sentiti libero! Poi qui... Dinamiti, queste qui buone! No, una testa di... Oh, buone! Guarda! Una testa di creeper! Ah! Jump scare! Senti, va bene così! Non serve che sei così! Tanta, abbiamo finito! Grazie, comunque gentile, eh! Dai, vediamo se ci... Oh! Aspetta un po'! Cosa ho trovato? Uuuuuh, Lex Nauts, cosa ho trovato? Cosa hai trovato? Di tutto! Di tutto! Ho trovato un soldato, un mutant creeper e un bug alieno! Oh, anche a te ha detto qualcosa! Anche a te! Fammi vedere cosa hai tu! L'outcast si chiama! È un soldato anche lui! Tutti soldati mostruosi! Dammi... Perché so, vogliono provarlo? Parale 3! Proviamolo da loro! Così, capito? È meglio! Andiamo, andiamo! Andiamo, andiamo, andiamo! Zitti, zitti! Quatti, quatti! Quatti, quatti! Non ci sente nessuno! Guarda che c'hanno addosso loro! Un po' di problemi, però adesso aspetta che gli ho messo questo! Vai vai, gli aggiungiamo noi i problemi! Li metto dietro! Guarda qua! Oh, ce l'ha con me! È grosso! È grossissimo! Oh, grosso! Oh, è incavolatissimo! Ah, mi sta sparando! Mi sta sparando! Oh, figlio! L'ha demolito! Guarda che vanno! È forte! È forte! È forte! Mi ha tolto tutta la vita! Mi ha tolto! Vai! Mi ha tolto! Raga, che cos'è? Che cos'è? Volevamo fare uno scherzetto, ma ci si è ritorto conto! Il signore è grosso, è fortissimo! Ma scusatemi! Ma mi sta uccidendo di continuo! Arrivo, 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 arrivo! Vai, spaccalo, spaccalo! Alex! Niente! Vai, vai, vai! È troppo forte, raga! Vanno anch'io, vanno anch'io! Vieni, stai al sicuro! No! Ci serve qualcosa per l'angua! Bisogna affrontare, il signore, è molto forte! Come si fa? Allora, io c'ho una mela d'oro! Vieni qua, te! Mangia questa! Dai, mi sta continuando ad uccidere, raga! Che è successo? Sto arrivando, aspetta! Attenti, Ananas! Vengo io! Ananas, arriviamo! Sto arrivando! Ecco, aspetta! Vai! Gattivo, cattivo! Sto arrivando, Anna! Lo spingo! Lo spingo! Non si riesce, speditilo, bravo! Vai! Sono un eroe! Mamma mia! Sono fortissimo! Allora, buono, buono, buono! Eroe è un po' grossa come erola, perché l'avete messo voi! Mi sento alieno! Attenta! Che schifo! Che schifo! Via! Mamma mia, Feri! Vabbè, non ho parole, però! Aspetta! Ti si attacca, Anna! Stai a te, si azzincolla! È veloce! Mamma mia, che mostro bruttissimo questo cara! Proprio brutto! Ma che schifissimo! Feri, 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 feri! Vieni, vieni, feri, 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 feri! Feri, lo sai? Vabbè, volevo solo farti le scorreggie! Chieee! Chieee! Lo sapevo! Lo sapevo! E ce ne andiamo pure indignate! Che schifo! Ah, sì, giusto! No, allora, ci devi mandare! Ciao, ciao, sciacquatevi! Ciao! Ciao, ciao, ciao! Bene, Alex, siamo partiti molto bene! Adesso... Ma è un cartoon cat gigante, Alex Nauts! Ma che schifo! Dai, uccidilo! Fa meno paura di te, però, comunque. Vedi? Cioè, se tu fossi gigante, faresti più paura di lui. Però sei piccolino. La prossima volta mi gigantisco e ti faccio paura e ti butto lì sotto. Ok. Che bello! Io lo lascio lì, perché è carino! Andiamo a... Andiamo a casa mia! Sì, sì. Lo lasciamo lì, perché mi piace! È bellissimo, è simpatico! È bellissimo, sì, sì! Frecce! Buone le frecce, mi piacciono! Oh, tantissimi cani! Buoni cani! Morte! Dion, morirai! Morirai! E invece... Eh, so forte io, mica, mica! Non so se è forte! Grazie! Mando più o meno gli smeraldi! Cosa è successo? Dion, Dion! Che è successo? Non lo so! Oh! Due armi belle! Guarda! Te! Questa per te! Oh, per me? Sì! Per te! Che bella falce! Sei gigantesca, guardala! È la falce della morte! Dice che quando clicchi col destro, consuma e uccide le persone che hanno poca vita! Quindi questa qui dobbiamo tenercela tipo per fare la finish! Ti auguro farà su di loro! No, poi lo sai come fanno! Sì, è vero, no, non lo facciamo! Lo faremo dopo, però! Lo faremo dopo! Però io ho visto cadere anche dei minerali, ma non è caduto niente! No, non erano minerali, è quella roba là! Un'altra volta! Ma morirai! Morirai! E invece, guarda come sono sopravvivente! Oh, di lama! Qua un coniglietto! Diamante! Perfetto! Buono! Vedi, vedi! Ecco, ne abbiamo già un po'. Poi dopo... Altri lucky block! Se hai diamante mi dai anche il tuo! E basta! Sì, non c'è niente! Oh, che fastidio! E non se ne può più così! Vado, sono cedito, re! Eh, questo sei tu, eh, che porti sfiga comunque! Eh sì, e questa è la mia isola, infatti! Eh sì, ed è sfigata! Che c'è, diamanti? Oh, pesci! Eh... Un imbecille! Che è morto! Va bene! Era furbo il signore, eh! Si capiva bene che era un furba! Uh! Uh, l'aio cose belle! I miei... Hai visto? I miei cani mi hanno difeso da quel piccolo cartoon cat! Mamma mia, potentissimo! Quanti ce ne hai? Tantissimi! Sono tutto un esercito mio! Gli ho dato tutti i nomi! Si chiamano stracciapalle numero uno fino a stracciapalle numero dodici! E tu sei stracciapalle numero tredici, invece! Non è vero! Io sono stracciapalle e basta! No, sei stracciapalle... Ah! No! L'aglio le dirti! L'aglio le dirti! Non ti preoccupare, sono già morto io! Che bello! Però hai spaventato lo zombie gigante cartoon cat! Puoi tornare qui? Ma dai, meglio, no? Molto meglio, molto meglio! Oh, ma lo sai che io ti... Però a quanto pare non siamo gli unici ad avere dei problemi, se non altro! Ci sono loro che stanno esplodendo! C'hanno anche un cartoon cat bob gigante! Vieni, vieni! Senti, ma se io ti dicessi che tipo devi andare in edicola, tu cosa faresti in questo momento? Io andrei in edicola e prenderei l'album di misteri di Lion! Mostri e misteri! Non hai ancora imparato? Guarda avanti i tesori! Mostri e misteri! Guarda avanti i tesori, qualsiasi abbiamo nominato! Adesso lo faccio vedere! Se volete anche voi dei tesori, andatene edicola, comprate l'album e comprate anche le figurine! E se malauguratamente tu dovessi trovarlo esaurito ma volessi comunque comprare qualcosa, cosa compreresti? Io comprerei le action figure 3D! Bravo, bravo! Dici il bene! Bravo, dici il bene! Ne prendo subito una! Eccola qui! Guardate come sono belle! Tu te ne dico l'hai trovata! L'ho sculacciata! Sicuramente sarà stata una di Alex Nauts che ci piace essere sculacciata! No, come ti permetti di sculacciarmi! E se stasera alle 19 tu non avessi da fare niente di meglio? Cosa che ovviamente così! Non c'ho da fare niente di meglio o sarei... Ma che? Tu pensi che non c'abbia a fare niente? No, tu non hai mai da fare niente! Cosa c'hai da fare tu? Vabbè comunque andrei in live, non qui ma sull'altro canale viola! Bravo, bravo! E c'è il link in descrizione nel primo commento! Lai un WGF live! Partecipate boys and girls! Vi aspetto a braccia aperte e anche Alex! Allora ascoltami bene! Io ho un po' di diamanti! Se mi dai quelli che hai trovato tu possiamo vedere se già... Eh io ho dato tutto quello che c'ho! E allora non abbiamo bancho! Sono un po' boraccio, non c'ho niente! Fai una cosa! Scava qua sotto e prendi il ferro! Perché c'è il ferro, vedi? Ehi, rubo tutto il ferro! Vado, vado! Applicati, applicati my friend! Applicati bene! Trovando una cosa! Mi farei qua delle cose vicino a me per favore! Beh tranquillo! C'è solo una signora un po' anziana qui! Sarà Feri ma forse più una strega! Una strega Feri! Ho trovato... Aspetta! Bombe! Alex a te! No! Ero appena uscito! Ero appena uscito dal pozzetto! Questa è colpa tua eh? Dal pozzetto! Questa è colpa tua! Colpa mia? Come ti permetti di dire una cosa simile? Tu esci dal pozzetto, succedono le cose terribili di chi è la colpa tua che esci dal pozzetto? Potevi rimanere nel pozzetto! E questo che facciamo? Giusti! Perché è colpa tua! È colpa tua e cos'è? È colpa mia! È colpa tua! E infatti l'ho aperto io la ghibla che mi ha fatto esplodere! No, ma tu sei uscito dal pozzetto! E si sa se... Murgisci, murgisci, vacca! Allora, ascoltami bene! Secondo me abbiamo trovato già qualcosa di buono però... No, le patate! Ma è un cartoon cat pure! Ma è un cartoon cat simpatico! E qui aspetta un po', vediamo se magari... C'è altro ferro, mi sa! Altro ferro, ma il ferro è dei poveri! Eh però io lo prendo, non si sa mai! Tanto già sei un po' racci! Ah, va bene, io vedo se qui dentro c'è qualcosa di più bello magari, eh! Dai, su! Non è vero! Vai, Alex! È colpa tua! Ma porca di quella! Pisella! Stavolta io non sono sceso, vedi, vedi? Stavolta non sono morto! Aia! Aia! Ma perché mi hai ucciso? Perché mi hai preso in giro! Mi ha fatto arrabbiare! No! Sono morto nella tua trampola che hai fatto a casa mia! Alex, cosa stai? Alex, mannaggia te! Dai, non è giusto! Alex, adesso porca mia... Arrivo, arrivo! Dobbiamo recuperare delle morti! Cioè, non è vero in realtà, siamo pari, non so com'è possibile, ma siamo pari! Però recuperiamo comunque qualcosa! Andiamo a mettergli il mutant creeper nelle mutande! Andiamo a metterglielo! Andiamo anche in stanza, sei pronto? Molto cattivi, eh! Andiamo, andiamo! Ok! Buongiorno, buongiorno! Buongiorno, buongiorno! Portiamo un dono! Tieni! Non è mutante questo! Però è grosso lo stesso, ma non ho capito mai! Era uno Yoda mutante quello! Per me non è mutante, per me è piccolino piccolino! Però è cattivo cattivo! Fa malissimo! Eh, lo vedo! Fa malissimo! Eh, lo vedo, lo vedo! Allontanati, allontanati! Dai, ma non vi basta che siamo morti 11 volte! Anna, spingi sto coso che non ce lo togliamo più! E io non ho capito perché per me è piccolino mutante, non ha mutato per me! A casa mia non ha mutato! Perché ogni volta venite a rompere scatole da noi? Cosa è? Allora, noi siamo morte 12 volte! Anche noi siamo morti un po', comunque! Anche noi perché Alex è molto sca... Sono morto anch'io! Volevo aiutare Feri, ma Feri esplosa! Non è divertente! 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 Per niente! L'abbiamo tolto di mezzo quello lì, almeno? È morto? È morto, è morto! Perfetto! Attenzione che c'è un uovo però! Io lo butto di sotto perché non si sa mai che poi dopo si aprisse anche questo sarebbe una cosa un po' fastidiosa! Per favore, non fare altri danni! No! Oh, signora! Te li fai da sola i danni però, tu vedi? Vedi? Non sei brava, sei scarsa! Io non ce la faccio più! Perché hai la maschera di Cartoon Cat tu e io no? Perché sono... Guarda Feri, guarda Feri! Ciao! No! Dai! Stai attaccando me, non vale, non vale! Ecco, ecco, ok Anna Pari, adesso ti saluto perché ce ne andiamo! Andiamo Alex Nights alla Batcaverna! Eccoci qui nella Batcaverna! Ascolta, io spenderei un po' perché abbiamo abbastanza risorse! E ora? Io intanto scambio il ferro, poi gli do i miei smeraldi! Grazie, sei veramente un alleato prezioso! Sei brutto! Lo so che sto prezioso! No, no, però, però c'è il però! Però, c'è un però! Ebbè, allora va bene, no? Sei brutto, ma... Però, ma è la stessa cosa, no? Cioè, sono sinonimi! Sì, 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 certo, certo, certo! Ma però non si dice, invece, ma però... Ma però no, non si dice! Poco elegante, brutto! Però, quindi, sei brutto, ma però sei anche valido come alleato! Meglio averti come alleato! Quindi è un complimento, no? È un complimento, perché come nemico sei piuttosto temibile! Ma come alleato sei valido, leale, cortese e niente male, capito? È onesto! Anche, anche, anche! Ascolta, come armi oggi... Cosa è successo? Sono morte! Guarda là, guarda là! Sono state inglobate! Senti, prima che arrivi da noi, io direi di sbrigarci! Prendo, guarda... Cioè, lanciafiamme, cosa fai? Te ne privi? Hai ragione! Volevo resistere, ma non posso! Non si può, non si può! Io voglio invece la motosega, se ci avanzano soldi! Sì, certo, certo, certo! Tieni, anche la benzina! Prendi! Grazie, sei gentilissimo! Ma anche tu, guarda! E adesso andrei a comprarci... Ma cos'è lì? Guarda, cosa è successo qui? Uè, che è successo? Un cavallo! Ma no, il cavallo! Deficiente! L'esperienza e i libri! Non vedi che è pieno di roba qui per terra? Eh, che cosa bella! Prendiamolo! Ma lì ha cagato il cavallo, secondo te, tutte queste cose? Ho visto di sì! Bravo il cavallo! È un cavallo fortunato! Che persona utile! Molto più di te, vedi? Senti, andiamo a scambiare... Vieni, vieni, c'è il signor Jeff the Killer che vende l'armatura! Prendi l'armatura! Allora, armatura creepy! Molto bella! Però, costosa, eh! Costosa! Eh, ma costa tanto! E non è che vale così! È meglio di niente, però! E non abbiamo... Ismeraldi! Ne hai altri! Per tutti e due! Ne hai altri... Eh, no, io ho finito! Hai dei diamanti pure, per caso! Eh, no, ho finito tutte cose! C'hai niente, allora dillo! Non c'è niente! Cioè, sei inutile, sei inutile! Che torna fa? Andiamo a aprire qualche altro blocchettino, allora! Eh, sì, per forza! Corri, salto c'è tempo! Corri, corri! Sì, 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 ancora in teoria abbiamo tempo! A casa di feri, a casa di feri! No, no! No, no, no! Vieni con me! Andiamo qui! Dai! Alex! Dai, ma tu non c'entri neanche i buchi! Aspetta, allora... Prima di tutto mi chiamavano il trivellatore pazzo di montagne, per cui sono voi il migliore in questo genere di cose! Secondo... Siamo ancora in vantaggio, ma di brutto siamo in vantaggio! Guarda i punti, siamo stra... Alex! No, Lion, no, 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 no! Non riuscirò mai, 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 proprio mai, Lion! Sicuramente morirai là sotto! Questo qua... No, 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 perché? Ma che alleato sei? Guarda che se rompevamo entrambi lo stesso, riuscivo a uscire proprio prima! E li sto rompendo lo stesso, ok, vedi? 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 Grazie! Vedi? Vedi? Perfetto! L'importante è sempre andare di pari pari... Passo! Cioè, sempre insieme, sempre insieme... Oh! Cosa c'è? C'è inciudato tutte le cose? Non me la do niente! L'importante è sempre che le cose buone vadano a chi è forte! Perché, cioè... Sono di nuovo bloccato, Alex! Vai, aiutami! Qua sarebbe da lasciartici, però... Sarebbe da lasciarmici, ma tu non lo farai! Perché sei uno in gamba! Vai, spaccanza! Eh, sì! Bravo! Vedi? Grazie, grazie! Mi pento di aver fatto delle cose brutte verso te! Ah, ecco! Mi pento! Oh, un Baby Lion VGF! Vuoi fare anche questa volta il simpatico come l'altra volta e diventi tu il Baby Lion VGF? Sì! Sì! No! Che è successo? Beh, l'hai rotto! Ah, c'è un Baby Alex VGF! Cambiamoci, dai! Per favore, fallo! Va bene! Aspetta! Aspetta, eh! Prendo così! Mi fa un po' schifo, eh! Però... Oh, come ti permetti! Guardami! Dai, sono brutto! Che schifo! Andiamo! Andiamo da loro! Andiamo! Aspettami! Ecco, eh! Non cadere! Non ci posso credere! Eh, ma è colpa mia! Adesso mi mangio le mani! Mi mangio io le mani! Ah, perché? 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 Succede sempre! Ma puoi aggiustarmelo! Dai, attento, eh! Ma che non c'ho blocchi, conca giusto! Va bene, andiamo da loro! Sei pronto? Vieni, eh! Sì, stanno di là, vai! Ok, andiamo! Eh, buongiorno, scusate! Buongiorno, sì! Salve, salve! Attenta che Alex sta venendo a ucciderti, eh! Lo vedi? Ma non dobbiamo fare lo scambio ancora noi! Anna, non ci stai guardando! Oh, Anna, degnaci di uno sguardo! Eh! Bellini! Bellini! È quasi toccante vedervi come foste due arlecchini, mamma mia! Non stanno capendo! Ma perché non capiscono? Anna, io sono questo qui! E quello è Alex! Ero... Oh, mio Dio! Oh, mio Dio! Oh, anche voi avete fatto! Come avete fatto? No, ma anche voi siete state brave! Cioè, Feli è travestita da mummia! È incredibile, eh! È così anziana che, guarda, non si distingue! Allora! Sì! Allora! Io me sto prendendo con te pensando che sei te, invece tu sei Alex! Aia! Ah, no, no! Questo è Lion! Questo è Lion! Guarda! Cafone Lion! Aia! Sei un cafone Lion! Sei proprio un cafone! Girati! Wow! No, non abbiamo fatto gli scambi ancora! Eh, andate allora! Perché venite a rompere le palle? Forza! Sbrigatemi! Forza, andate! Perché siete voi che ci avete importunati? Andate! Non è vero! Rapidì! Non stiamo scambiando! Dovete andare veloci! Andiamocene, Alex and House! Veloci, eh! Andiamocene! Ok, oggi sono lentissime loro! Ma proprio lente! Mamma mia! Proprio lente! Se vai agli nel dizionario e cerchi lente! Come se non non mi ha scritto Anneferi! Non ho fatto opposta! È fortissima sta cosa! Cioè, non serve un'arma! Sì, ma vorrei dire, ma mi hai tolto tutta l'armatura, eh! Pure! Guarda come sto adesso! Girati! Ma cosa hai fatto adesso? Questa è stata la colpa mia! Siete efficiente! Scusa! Ho tirato una pozione sfortunata! Allora, dividerò la mia armatura con te! Tieni, indosserai questo! Dai, ma sei gentilissimo! È questa qua pure, ok? Tieni! Dai, sei gentilissimo! Siamo la squadra degli Alex Nauts! Vedi che bello, che schifo! Sì, andiamo! Dai, che impressione ragazzi, però! Mi sta venendo a vomitare! Mettetemi un emoji che vomita nei commenti, per favore! Oh, perché? Eh, lascia perdere! Te lo spiego dopo! Comunque, usa la falce! Non fare il sedere! Usa la falce, eh! Noi siamo... Abbiamo già vinto! Ma come la usi? Col tassino? Dai! Spacchiamoli! Esatto! Comunque, loro hanno 20 morti! E noi ne abbiamo 14! Poco meno! Abbiamo vinto, Alex! Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Per una volta! Vinto abbiamo! Guardi, basta! Adesso loro arrivano, fanno bubere bubere e noi le ammazziamo! Eh, ma quanto tempo d'accadaglie! Cioè, eh! Basta! 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 Io direi basta! Basta direi anche io, andiamo! Basta! 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 Cioè, dobbiamo menare le mani! Basta! 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 Dai, basta! Pronte? Fieri, prendi questo! Ma quanta roba stai comprando, Anna? Tanto hai perso stavolta! Sei morta 11 volte solo tu! Scusa, eh! Non ti permettere! Fieri, prendi pure questo! Sì, vabbè! Ok, ci sono! Siete pronte? Guardate che qua dura poco, eh! Pronti? Sì, siamo pronte! Pronte! Ok! E allora, via, no? Uno! Via! Maria! Io non c'ho fiamma! Non c'ho fiamma non è buono! Non c'ho fiamma non è buono, però! Se io arrivo vicino, Anna sei morta, lo sai? Non c'ho fiamma! No, eri tu, ma sei deficiente! Dai, perché me ci so! Vado da te! Non è giusto! Non ci so, Alex! Ragazzi, vi devo dare un aggiornamento! La falce, avete ottenuto anche voi la falce, è molto buona! No! E allora avete perso, perché la falce è one shotta! Anna, ti ho detto che... Dai! Ma scusa, sei stata sfortunata! La falce della morte, non l'hai avuta tu? Allora, siamo morte 23 volte! Secondo te che razza di fortuna potevamo avere oggi? Ma la falce della morte è indispensabile, non usiamola! No, non ci baccate! Non usiamola, è troppo forte! Oh, sto! Anche così... Vedi che non funziona molto! Tra l'altro è molto buona... Allora, Feri, il fucile a poppa fa schifo, porca miseria! Sì, sì, ma... Sò fermo! Comunque la falce della morte è molto buona, anche perché quando ti uccide ti toglie l'armatura, è molto buona! Chi è che ha messo la lava? Alex Nauz! Alex! Adesso pulisci subito! Adesso pulisci! Vabbè, dopo pulisco, non so blocchi! Disgraziato, adesso puli... Non smontare, sai! No, no, blocchi, ho detto! Devo prenderli! No, ti brucio il sedere, babbo brotico! Polisci! Feri! Feri, chiudilo! Bravissimo! Sì! Bravissimo! Vabbè, non vi siete realizzati, tanto avete perso lo stesso, eh! Cioè, voglio dire... Avete perso, comunque! Avete stra-perso! La soddisfazione è lo stesso! Vabbè, per le persone anziane è giusto, anche prendere soddisfazione dalle cose piccole! Ma perché è finita? Sì, è terminata, Anna! Abbiamo vinto! È terminata! Abbiamo vinto! 25 morti contro 19 morti! Abbiamo stra-vinto! Questa volta avete preso un sacco di banane, proprio un casco di banane, veramente vergognoso! Oh, c'è andata male! Non è colpa nostra! Alex, togliti subito la mia testa, mi sono stancato di vederti in quel modo! Mi stai detturfando la schiena! Dai, non è vero! Mi piaceva! Mi piaceva! Mi piaceva! Va bene! Per oggi ci fermiamo, è stato molto bello! Feri, buona fortuna con la tua scorbuti... Scorbuto! Vabbè, le malattie dei vecchi, dai, insomma, c'hai la gotta, non lo so! Per oggi è tutto! E Lion... E la gang anziana out!